Appare sempre più complicato il negoziato con l'Unione Europea per evitare la procedura di infrazione per debito eccessivo. Conte sottolinea che mai l'Italia si è presentata a Bruxelles con il cappello in mano, ma intanto deve far fronte all'ennesima lite nella maggioranza. Terreno di scontro è la flat tax con i 5 Stelle all'attacco di Salvini, che minaccia la crisi. CGL, Cisle e Will hanno sfilato questa mattina per le strade di Reggio Calabria, chiedendo un piano straordinario di investimenti per il Sud, dove secondo i dati di Eurostat ci sono 4 delle 5 regioni con il più basso tasso di occupazione d'Europa, Sicilia, Campania, Calabria e Puglia. È arrivato al porto di Licate il peschereccio, sequestrato in acque internazionali e che trasportava 81 migranti poi trasbordati su un barchino, infine sbarcati a Lampedusa. I 7 membri dell'equipaggio, 6 egiziani ed un tunisino, sono stati fermati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Resta altissima la tensione tra Stati Uniti ed Iran, arrivati ad un passo dalla guerra dopo che Tehran aveva abbattuto un drone americano. Trump ha ordinato di fermare i RAI da pochi minuti dall'inizio dell'operazione. La preoccupante situazione della zona ha portato diversi compagnie aeree, compresa l'Italia, a modificare le rotte dei voli verso l'Asia. Il presidente statunitense intanto si deve difendere dalle accuse di molestie che arrivano da Elizabeth Carroll, una delle più note giornaliste americane che in un libro sostiene di essere stata violentata 23 anni fa in un camerino di un grande magazzino. Tutto falso, non l'ho mai incontrata, sono dichiarazioni fatte solo per spingere le vendite del suo libro. La reazione di Donald Trump. E' cominciata la prima fase di costruzione del nuovo ponte di Genova dopo il crollo del Morandi il 14 agosto scorso. Martedì prossimo verrà armato il primo pilone della struttura progettata da Renzo Piano. Il termine dei lavori è previsto per aprile del 2020 quando il nuovo ponte, secondo il commissario straordinario, nonché sindaco della città Marco Bucci, si potrà finalmente per correre. A Reggio Emilia questa sera l'Italia Under 21 si gioca il passaggio alle semifinali degli europei di categoria ed un posto per le prossime Olimpiadi. Gli azzurri affrontano il Belgio, per la squadra di Di Biagio però potrebbe non bastare un successo. In Formula 1 nel pomeriggio le qualifiche del Gran Premio di Francia con le Mercedes che hanno dominato le prove libere. Buongiorno dalla telegiornale della Sette. Partiamo ancora una volta dai nostri conti pubblici nei giorni e nelle ore in cui si lavora più con le parole forse e con la diplomazia che con i numeri per evitare la procedura di infrazione per debito appunto nei confronti del nostro Paese. Il Premier Conte in questi giorni ha cercato di mediare con i leader europei, ha usato sì lui la diplomazia e adesso dice anche però che non è mai andato in Europa con il cappello in mano. Contemporaneamente Matteo Salvini ribadisce la linea della fermezza, non dobbiamo scongiurare questa procedura a tutti i costi, fa sapere il Vice Premier che rilancia, ha rilanciato sulla flat tax, sulle sue misure di decrescita fiscale 10-15 miliardi da trovare, fino al punto da irritare l'alleato pentastellato che ha chiaramente cercato di stanarlo dicendo se vuole la crisi lo dica, altrimenti indichi la strada per trovare questi soldi. Dopo aver ammesso più volte che il negoziato con Bruxelles è assai complicato, il Premier è rientrato in Italia con una missione precisa, trovare i 3 miliardi di euro che ancora mancano all'appello per evitare la procedura di infrazione per debito eccessivo da parte della Commissione Europea. Non una resa alle richieste dell'Europa, sui conti i numeri reali sono i nostri, non mi presento a Bruxelles col cappello in mano perché non abbiamo niente di cui scusarci, ha detto ieri sperando nel fair play della Commissione, ma l'unica strada percorribile per evitare la batossa di multe salatissime e lo stop dei prestiti da parte dell'Europa. Mentre Conte insieme a Tria lavora per non irrigidire ulteriormente i rapporti con Bruxelles, in Italia ci pensa Matteo Salvini a far salire la tensione, sostenendo che la procedura di infrazione sarebbe un atto politico, è da evitare ma non ad ogni costo, dice il Vice Premier Leghista, che dopo aver minacciato la crisi di governo, se la flat tax da 10-15 miliardi non si dovesse fare, abbassa i toni chiedendo di anticipare a settembre la manovra così da spazzare via ogni pretesto per far cadere il governo. Infine assicura che se le proposte della Lega saranno accolte l'esecutivo andrà avanti per altri quattro anni. È inutile che l'Europa ci faccia la morale, agiremo con buon senso riducendo le tasse e spingendo sulla crescita economica per abbassare il debito, twitta oggi il Vice Premier Leghista. Le alleate di governo sono disorientati, la Lega è al governo come noi, quindi tracci la strada per trovare i soldi che servono per la flat tax. Se cerca una scusa per fare la crisi lo dica, replicano dal Movimento. La flat tax non si fa con le interviste ma lavorando incalza anche Luigi Di Maio, il cui obiettivo a breve termine resta quello di superare la data del 20 luglio, oltre la quale non sarà più possibile una crisi di governo che porti all'elezione anticipata a settembre. Voto che il Movimento sembra voler evitare a tutti i costi. E poi c'è il grande tema che è quello alla base di tutto, quello dell'occupazione che riguarda il nostro Paese. Ci sono stati i dati di Eurostat che hanno detto che quattro delle cinque regioni con il tasso di occupazione più basso d'Europa si trovano appunto in Italia e nel sud Italia. E allora ripartire dal sud, soprattutto far ripartire il sud, è quello che anche questa mattina in Reggio Calabria hanno chiesto i sindacati di CGL e Cisle Will proponendo e chiedendo un piano di investimenti che abbia appunto come leva a quella del lavoro perché il sud è abbandonato e perché i giovani scappano. Il segnale positivo, un barlume di luce nell'oscurità di un sistema produttivo italiano in crescente difficoltà arriva da Luxottica. La multinazionale che, risolto il conflitto post-fusione sulla governance con i francesi di Essilor ha firmato con i sindacati un accordo integrativo che permetterà la stabilizzazione di 1.150 lavoratori precari in un quadro di flessibilità sostenibile che coniuga l'alta stagionalità del mercato dell'occhialeria con la necessità di stabilità e dignità del lavoro. La chiave sta nel part-time incentivato di cui godranno i nuovi assunti e, qualora ne facciano richiesta, anche gli altri dipendenti italiani del gruppo. Turni da 8 ore nei 7 mesi di maggiore attività e di 6 negli altri 5 mesi, con 30 ore di formazione e un incentivo di 700 euro. Busta paga più leggera, ma non molto. La differenza ammonterebbe in media 1.257 euro l'ordi annui, con la possibilità di più che compensare questa penalizzazione con il premio di risultato che potrà raggiungere i 3.000 euro. Una buona notizia in un mercato del lavoro sempre più affaticato, soprattutto al sud. Qui ci sono, in base ai dati euro stati riferiti al 2018, quattro delle cinque regioni con il più basso tasso di occupazione d'Europa, Sicilia, Campania, Calabria e Puglia. E proprio per chiedere che il mezzogiorno rientri con forza nell'agenda di governo, magari con il ricorso di un piano straordinario di investimenti e l'abbandono del progetto di autonomia differenziata, hanno sfilato oggi a Reggio Calabria i sindacati, CGL, Cisle e Will insieme per, parafrasando il titolo della manifestazione che ha portato in piazza 25.000 persone ripartire dal sud per unire il paese. Basta campagne elettorali, ne abbiamo fin sopra i capelli, i problemi non si sono risolti, la situazione è peggio di un anno fa ed è necessario che il governo ascolti questo popolo, queste piazze e si discuta assieme a chi li rappresenta come cambiare davvero questo paese. Una correzione di rotta è quello che chiedono all'unisono, all'esecutivo, anche i segretari generali di Cisle, Will, Furlan e Barbagallo, un coro cui ieri ha aggiunto la sua voce per una insolita convergenza anche il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. Questo governo chiarisca ha attaccato, se vuole, la paralisi delle imprese. E poi c'è sempre il tema dell'immigrazione, quello che porta alla linea dei porti chiusi con la Sea-Watch che è al decimo giorno che naviga nelle acque vicino a Lampedusa in attesa di trovare un porto sicuro per far sbarcare il suo equipaggio che adesso è di 42 persone. E proprio ieri abbiamo sottolineato la distanza fra quelle 42 persone a bordo della Sea-Watch e i circa 80 migranti che erano arrivati su gommoni di fortuna ad attraccare alle coste siciliane. Ebbene è stata rinvenuta quella che viene definita in questi casi come la nave madre, quella che dalla Libia li aveva portati fino a un certo punto prima di trasbordarli in questi gommoni. È stato arrestato chiaramente l'equipaggio. È l'alba quando affiancato dalle motovedette della Guardia di Finanza il peschereccio, intercettato ieri dagli aerei di Frontex mentre scaricava un gruppo di migranti su una specie di zattera, entra nel porto di Licata, nell'Agrigentino. Finisce così l'avventura di questa cosiddetta nave madre, una specie di bagnerola che batte in maniera libica partita dalla spiaggia di Alzuara, gestita dagli scafissi specializzata nel traffico di esseri umani. Ecco le immagini riprese dall'alto che documentano i momenti in cui dal peschereccio vengono messi in mare su un barchino di legno gli 81 passeggeri. A qualcuno viene dato un salvagente, un trasbordo precario, pratica ricorrente da parte dei trafficanti, un trucco usato nel canale di Sicilia per disfarsi dei passeggeri paganti e lasciarli al loro destino. Ieri la nave è stata sequestrata. I migranti che erano a bordo, tra loro quattro donne e tre bambini, sono stati portati a Lampedusa. Dal peschereccio libico all'Ikata sono scese sette persone. Sei egiziani, un tunisino, sospettati di essere l'equipaggio, sono stati fermati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La procura di Agrigento ha disposto anche il fermo di altri due tunisini, sospetti scafissi di un altro gommone che ha portato a Lampedusa un gruppo di migranti sbarcati nelle scorse ore. I flussi non si fermano, ma rimane il blocco per la Sea-Watch 3 che ha il decimo giorno di fermo davanti a Lampedusa in attesa di poter entrare nelle acque italiane. La situazione si fa critica. I naufraghi hanno bisogno di cure, dice il medico. Questa notte un uomo è stato portato a Lampedusa per l'aggravarsi delle sue condizioni. A bordo sono rimasti in 42. Il rispetto dell'interdizione all'ingresso determina un penoso stilicidio. Twitta Sea-Watch sul caso è intervenuto l'atto commissariato per le Nazioni Unite e l'Italia alla responsabilità di far sbarcare queste persone. Ma Salvini non cambia linea. Con tutto il rispetto per l'ONU e i professoroni, per me non cambia nulla. Il ministro dell'Interno ha scritto al Premier Conte chiedendo un'iniziativa di sensibilizzazione nei confronti dell'Olanda. Stato di bandiera della Sea-Watch 3. Sono già intervenuto. Attendiamo risposta. Ha fatto sapere Conte. E poi c'è il tema della giustizia perché è ancora forte l'eco per quelle che sono state le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ieri, presiedendo il plenum del CSM, è stata minata l'autorevolezza della giustizia. Si deve voltare pagina, ha detto il Capo dello Stato. È forte e apparsa anche la sua preoccupazione appunto per quelle che sono state le risultanze dell'inchiesta di Perugia che ha svelato un quadro definito sconcertante e inaccettabile. E allora Mattarella ha detto che servono riforme. Quali? Giustizia si cambia. La riforma del processo civile, di quello penale, del CSM sarà portata in porto entro dicembre. Lo dice il Ministro Bonafede che poi ricorda le parole pronunciate ieri dal Capo dello Stato ed afferma sono uno stimolo fondamentale per continuare ad affrontare questa crisi di sistema in maniera compatta. Questo si aspettano i cittadini, istituzioni compatte che decidono di voltare pagina. Bonafede è entrato nel merito anche sul tema intorno a cui si dibatte da anni, ovvero le porte girevoli tra politica e magistratura. Necessaria una completa rottura, sostiene. Entrambe devono dialogare, ma nei canali istituzionali, non in quelli alternativi. La terzietà del magistrato è un valore irrinunciabile per la democrazia. Un magistrato che entra in politica deve abbandonare la magistratura, conclude. Ma in cosa consisterà questa riforma della giustizia? Il guardasigili ha promesso un iter veloce per la legge delega sulla giustizia che dovrebbe contenere anche il capitolo sul CSM. Nelle intenzioni c'è un nuovo sistema elettorale che potrebbe prevedere collegi più piccoli, sanzioni con conseguenze sulle carriere per i magistrati che non rispettino i tempi instabiliti per ogni processo e lo stop per cinque anni agli incarichi diretti per gli ex togati. Poi c'è la stretta sugli errori dei giudici. Si sta cercando di introdurre il concetto di chi sbaglia paga, concetto che però viene respinto dall'Associazione Nazionale Magistrati che commenta ci potrebbe essere un rischioso condizionamento nell'adozione di iniziative cautelare in palese contrasto con l'invocata necessità di una maggiore severità a tutela della sicurezza dei cittadini. Uno dei principali obiettivi di questa riforma è quello di limitare al massimo la degenerazione delle correnti in magistratura. Con la riforma dell'ordinamento giudiziario si è cercato di premiare la professionalità, il merito e non solo l'anzianità nella scelta dei dirigenti. Una riforma che ha prodotto tra i magistrati una vera e propria caccia alle medagliette, come l'ha definita Davigo, e che è la vera questione morale della magistratura, ha commentato Luca Poniz, neopresidente dell'ANM. Intanto, dopo la bufera per le nomine al CSM, l'ex ministro PD Luca Lotti, uno dei protagonisti delle cene in cui si discutevano gli assetti per diverse procure, ha annunciato l'intenzione, con una mossa sorpresa, di rendere dichiarazioni spontanee nell'udienza preliminare del processo Consi, in cui è imputato e che si terrà lunedì prossimo. Adesso andiamo all'estero, torniamo sulla forte tensione nel golfo tra Iran e Stati Uniti. Lo facciamo ripensando anche a quella che è stata la notte, quella tra giovedì e venerdì, della guerra sfiorata, quando dopo l'abbattimento da parte di Teheran, di un drone statunitense che volava, secondo Teheran, nei cieli iraniani, Donald Trump aveva pensato a reagire con un attacco mirato, tre obiettivi da colpire con navi e aerei. Poi, dieci minuti prima dell'azione, lo stop, il ripensamento di Trump che in questa fase alterna toni minacciosi al dialogo, al tentativo di dialogo. Il ripensamento di Trump, ci sarebbero stati almeno 150 morti iraniani, forse un'azione, ha detto il Presidente degli Stati Uniti, proprio in un tweet smisurata rispetto a quella che era stata la provocazione, ma soprattutto ci sarebbero state poi altre conseguenze ed una inevitabile escalation. Per adesso, la quinta flotta statunitense resta in stand-by, pronta a intervenire. Le compagnie aeree internazionali, tra le quali anche l'Italia, modificano le rotte, nonostante l'Agenzia Iraniana per l'Aviazione Civile, sostenga che lo spazio aereo sia assolutamente sicuro. La tensione resta tutta, e anche il giallo. In quei dieci minuti in cui il Presidente Donald Trump ha evitato che scoppiasse la guerra tra Stati Uniti e Iran, come ha scritto lui stesso su Twitter, sono racchiusi tutti gli interrogativi su cosa sia realmente successo alla Casa Bianca. Facciamo un passo indietro. All'alba di giovedì, un drone Global Ox statunitense viene abbattuto dalla contraerea iraniana nello stretto di Ormuz, lingua di mare larga appena 60 chilometri da dove passano 21 milioni di barili di greggio al giorno e dove gli equilibri sono precarissimi. Donald Trump definisce l'abbattimento un grave errore. Teheran sostiene che il drone si trovava nel suo spazio aereo il Pentagono dà il via a un attacco mirato contro tre obiettivi iraniani ma dieci minuti prima che parta la ritorsione Trump chiede a un generale quante persone moriranno. 150 signore e la risposta troppe in confronto all'abbattimento di un drone riflette Trump che quindi dà l'ordine di fermare l'attacco. Gli interrogativi dicevamo perché Trump dice di aver dato il via all'attacco e di essersi informato sulle conseguenze solo dieci minuti prima. Un atto per dimostrare al mondo e ai suoi elettori la sua magnanimità? Un gesto di prudenza per contrapporsi ai falchi della sua amministrazione Pompeo e Bolton? E inoltre alcune fonti parlano di una lettera partita da Washington per la Yatollah Khamenei per cercare il dialogo ma dall'Iran smentiscono che sia mai arrivata. Quel che è certo è che a Teheran servono fatti. La guerra si evita solo se le pesanti sanzioni che gli Stati Uniti hanno messo in atto fra cui l'embargo petrolifero totale saranno eliminate e se si tornerà al dialogo nell'accordo sul nucleare dal quale gli Stati Uniti si sono sfilati un anno fa. Oggi l'esercito iraniano ha avvertito che il minimo attacco al suo territorio avrebbe conseguenze devastanti e con l'invito al dialogo arrivato da tutta la comunità internazionale lunedì sarà il Consiglio di Sicurezza dell'ONU a mettere sul tavolo la questione. Ma Donald Trump in queste ore ha le prese ancora una volta con un problema un attacco, diciamo meglio un'accusa che tocca la sua persona è l'accusa che arriva da una nota giornalista americana che dice che il Presidente oltre 20 anni fa l'avrebbe violentata nel camerino di un negozio di abbigliamento. Trump chiaramente ha detto di non averla mai conosciuta e ha accusato a sua volta che questa giornalista stia inventando tutto per spingere le vendite del libro. Chiedi a Jane. Si intitolava così la rubrica di posta del cuore che Jane Carroll teneva su Elle all'inizio degli anni 90. Seguita, seguitissima, tanto che quando un giorno era all'inverno del 95, forse agli inizi del 96 Donald Trump incontra la famosa giornalista da Beresford e Goodman la riconosce subito. Ehi, tu sei quella dei consigli, dice E tu sei il magnate immobiliare, risponde Carroll. Chi c'è stato, almeno una volta, da Beresford e Goodman lo sa è uno dei negozi più belli della Quinta Strada a New York vetrine curate in ogni dettaglio davvero riduttivo definirlo solo un grande magazzino di lusso. Trump attacca bottone chiede a Carroll di aiutarlo nella ricerca di un regalo per una ragazza i due vagano fra i reparti di scarpe, borse, pellicce finiscono in quello della biancheria intima. Forse flirtano un po' sta di fatto che Trump chiede a Carroll di provare alcuni capi, un body grigio in particolare insiste, lei dice di no e poi ha consente. Ed è allora che sarebbe successo quello che non doveva succedere. Trump che entra a forza nel camerino della donna, la violenta lei che dopo un paio di minuti riesce a divincolarsi ma la violenza c'è stata, il ricordo rimane indelebile. E finalmente esce fuori perché Carroll, che oggi ha 75 anni, scrive un libro e ne affida le anticipazioni al New York Magazine che con straordinario tempismo, ma davvero impossibile da prevedere esce negli stessi giorni della crisi iraniana. Il che non ha impedito comunque al Presidente non solo di rigettare tutte le accuse ma anche di sostenere si tratti di una macchinazione dei democratici anche perché la Carroll all'epoca non denunciò, non disse nulla se non a un paio di amiche ovviamente non esistono né registrazioni né altro che ormai possa provare il fatto. L'unica cosa che esiste è la consolidata abitudine predatoria di Trump non certo nuovo ad atteggiamenti sessisti nei confronti delle donne come quando fu intercettato mentre sosteneva che vadano prese per le parti intime e ovviamente non aveva usato questo termine. e le altre decine di denunce, di molesti e abusi perché non ho denunciato prima, ha detto Carroll perché sono una vigliacca lui ha 200 avvocati, mi disse una delle mie amiche ti devasterà l'esistenza ma ora, evidentemente, ha deciso che poteva correre quel rischio. Andiamo a Parigi, ci sono stati 3 morti e 28 feriti questo è il bilancio dell'incendio scoppiato attorno alle 5 di questa mattina in un palazzo dell'undicesimo Erondisman nel cuore della capitale francese 200 vigili del fuoco sono intervenuti per spengere le fiamme in questo edificio di 6 piani costruito tra gli anni 70 e 80 e che oltre agli appartamenti ospita anche un ristorante ed una mamma ancora sono sconosciute le cause del rogo torniamo in Italia e parliamo di Genova della ricostruzione del Ponte Morandisi perché la prossima settimana ci sono due date significative in questo percorso, significative per Genova ma non solo martedì prossimo ci sarà la prima gettata per quanto riguarda la costruzione della prima nuova pila del nuovo viadotto tre giorni più tardi cadranno le pile 10 e 11 grazie all'esplosione la costruzione del nuovo ponte di Genova sulla Val Polcevera è cominciata la prova tangibile è l'armatura di una nuova pila che Marco Bucci, commissario straordinario del ponte e sindaco della città esibisce con tanto di foto via social sarà la numero 9 del ponte scrive su cui stiamo lavorando ogni giorno con il massimo degli sforzi rispettando il crono programma che ci siamo dati salvo imprevisti martedì prossimo la pila sarà inaugurata una prima colata di cemento ricoprirà l'armatura e arriverà il primo impalcato d'acciaio della nuova infrastruttura le tappe per l'opera progettata da Renzo Piano sono segnate a Natale la struttura completa dovrebbe essere già visibile il termine dei lavori è previsto ad aprile 2020 per quella data la città potrà di nuovo attraversare la valle del Polcevera sanando la ferita aperta con il crollo del 14 agosto scorso almeno per quanto riguarda la viabilità non certo il lutto per le 43 vittime del crollo del Morandi di pari passo con la costruzione del ponte procede intanto la demolizione del vecchio cavalcavia settimana prossima al 28 giugno condizioni climatiche permettendo saranno fatte esplodere le pile 10 e 11 con qualche giorno di ritardo sul programma che però non peserà sul termine dei lavori entro fine luglio il vecchio Morandi sarà abbattuto assicura Marco Bucci in un'intervista sul Sole 24 ore di oggi se anche dovessero volerci un paio di settimane in più non impatteranno sulla costruzione del nuovo ponte aggiunge il sindaco una demolizione controllata con microcariche e utilizzando vasche d'acqua per contenere la dispersione di polveri e di amianto il commissario sindaco rassicura i livelli saranno misurati ogni ora e nel giro di tre ore si dovrebbe rientrare nella normalità tutto procede dunque sempre che nuove vicende giudiziarie non pesino sul cantiere pochi giorni fa gli amministratori di una delle aziende che lavorano alla demolizione sono stati arrestati dalla DIA per infiltrazioni camorristiche il sindaco però difende il sistema dei controlli siamo riusciti a beccare un'azienda che era nella white list ha dichiarato li abbiamo scovati perché abbiamo fatto i controlli mentre lavoravano non solo sulla carta parliamo adesso di sanità delle lunghe attese nei pronto soccorso delle carenze di medici è un problema noto e annoso ne abbiamo parlato più volte lo abbiamo fatto tutte le volte che si è accesa la polemica attorno a quelle che sono state le soluzioni tampone diciamo così trovate dalle regioni che hanno fatto alcune ricorso a neolaureati altre hanno richiamato pensionati o addirittura medici stranieri il governo adesso ha modificato quella che è la procedura nei pronto soccorso con una sorta di riforma dell'iter però il problema che resta alla base di tutto è quello dell'assenza di finanziamenti siamo arrivati alle 10 di questa mattina sono le 17.30 siamo ancora qui mi è stato comunicato che c'era un solo medico perché l'altro è malattia e così è rimasto il povero dottore che è qua stamattina sta facendo il turno fino alle 8 perché ho chiesto anche a che ora stacca tempi d'attesa troppo lunghi pochi medici in servizio e l'esasperazione degli utenti fino al caso limite di qualche giorno fa quando una normale giornata in corsia si trasforma in un giorno di ordinaria follia con un infermiere aggredito a pugni e sputi da parte di due persone che aspettavano da 8 ore è successo al pronto soccorso oftalmico del Fatebene Fratelli di Milano i sindacati di base puntano il dito su una situazione che dicono si è arrivata allo stremo manca personale sanitario con gli infermieri costretti a coniugare insieme operazioni di triage assistenza in sala e i dottori che devono dividersi tra il reparto e la corsia del pronto soccorso sostanzialmente facciamo tutta la nostra attività che è un pronto soccorso 24 ore al giorno sempre tutto l'anno con 13 persone le ore d'attesa sono aumentate rispetto all'anno scorso? un filino sono aumentate anche perché ripeto i medici sono in burnout pensi che uno che ha fatto una sala operatoria o un ambulatorio l'intera mattina ha il tempo di mangiare qualche cosa di riposarsi in assia e poi pomeriggio si fa anche il pronto soccorso capisce che dopo 10 11 ore di lavoro la fatica è tanta eppure la situazione in Lombardia è una delle meno gravi l'allarme dei medici che spariscono dal servizio sanitario nazionale riguarda il paese intero colpa di anni di taglia ai fondi pubblici e delle riforme delle pensioni dicono gli analisti dal 2008 ad oggi lavorano 10.000 medici in meno da qui ai prossimi 6 anni si calcola che ne spariranno 52.000 e a causa della quota 100 e della legge fornero dovrebbero entrarne solo 36.000 a trovare una soluzione ci pensa il governo gialloverde con il nuovo piano trasmesso alle regioni dal ministro Giulio Grillo che riorganizza il pronto soccorso per limitare le attese e il decreto Calabria che vorrebbe risolvere il problema della carenza del personale prevedendo nuove assunzioni con specializzanti al lavoro con due anni di anticipo ma tutto questo basterà da aggredire il cuore del problema del nostro sistema sanitario? credo di no nel senso che non solo c'è una caduta nel valore degli stipendi di questi professionisti ma c'è anche proprio una caduta nella considerazione tra l'altro totalmente ingiustificata perché i medici italiani sono tra i migliori al mondo c'è una caduta nella considerazione della gente e i posti dei medici in Italia non sono più appetibili insomma allora parliamo del ritorno di Barack Obama in Italia l'ex presidente americano atteso oggi sarà poi ospite di George Clooney con la famiglia nella sua villa sul lago di Como stiamo tutti aspettando che cosa? la notizia che è di Obama c'è un piccolo paese appoggiato su quel ramo del lago di Como che oggi per tre giorni si sente padrone del mondo un ospite eccellente l'ex presidente americano Barack Obama è arrivato all'aglio insieme alla famiglia per trascorrere tre giorni di vacanza dall'amico George Clooney che qui a Villa Oleandra suo buon ritiro estivo ormai è di casa insieme alla moglie Amal direttamente dalla Francia Barack e Michel con le figlie Sasha e Malia impegnati in un tour estivo sono atterrati a Malpensa sono in arrivo con un corteo di circa dieci auto per infilarsi a Villa Oleandra la residenza facciata sul lago che fu prima degli Ainz quelli del ketchup poi acquistata dall'attore americano nel 2001 nel paesino è un viavai di auto della finanza e delle forze di sicurezza anche dall'acqua il sindaco ha emesso tre ordinanze fino a lunedì per tutelare la villa del divo americano oggi Roberto Pozzi l'autorità più intervistata della giornata diciamo che noi ormai da più di 15 anni abbiamo questo jolly che ci giochiamo ogni estate in chiave turistica è il nostro concittadino onorario oggi c'è questa inattesa visita dell'ex presidente come aver pescato una scala reale Achille Taroni ha 85 anni e il barbiere del paese da 70 anni posso dire di aver tagliato i capelli a una star ci racconta orgoglioso siamo amici via tanti anni che lo servo una volta o due all'anno con che ci sposano per esempio sono invitati come io dunque vedi anche il fatto di Obama voglio dire se ha scelto questo se ha scelto l'aglio che presumo abbia girato il mondo abbia visto posti stratosferici molto più belli magari di questo se ha scelto questo ci sarà un perché no blindatissima la visita dai clunei della famiglia americana Obama e Michelle non usciranno di casa forse le figlie potrebbero invece fare un giro nei dintorni c'è ovviamente massima riservatezza sul programma dell'ex presidente Obama qui con la famiglia fino a lunedì ospite di Villa Oleandra di George Clooney e della moglie Amal probabilmente la festa di San Giovanni con i fuochi d'artificio tempo permettendo qui l'attesa è frenetica tanti lavorano intorno alla villa del Divo e devono molto a questo via vai eccellente sia per il turismo sia per il ritorno di immagine l'aglio c'è rimasto quasi solo un bar ci dicono in tanti che prima era il paese dove a casa clunei sarà anche quello dove ha passato un lungo weekend l'ex presidente Barack Obama beh tempo permettendo diceva Raffaella Di Rosa nel servizio anche perché il maltempo sta caratterizzando questa giornata c'è stato un ubifragio a Milano è esondato il Seveso anche in Valtellina ci sono state delle frane diciamo anche che i problemi hanno riguardato anche il Piemonte ieri sera invece ci sono stati tanti applausi e anche un po' di commozione all'arena di Verona che ha aperto la sua stagione con l'ultimo lavoro di Franco Zeffirelli il grande regista scomparso una settimana fa c'era lo vedete nelle immagini il presidente della Repubblica Mattarella tra i 20.000 spettatori che in questa serata d'estate hanno reso omaggio a Zeffirelli per la messa in scena appunto della Traviata un allestimento dall'impronta alquanto teatrale ricco di colori e di suggestioni ottocentesche un'opera trasmessa in mondo visione un omaggio internazionale dunque a una settimana come dicevo dalla scomparsa del regista con una delle opere verdiane più amate dal pubblico e dallo stesso Zeffirelli ed è stato Mattarella al termine dello spettacolo a farsi voce di tutti ha detto il presidente della Repubblica che è un ricordo eccellente del maestro un modo per ricordarne le opere così come a lui sarebbe piaciuto adesso ci fermiamo per qualche istante e poi subito dopo restate con noi perché apriamo la pagina sportiva torniamo in studio e apriamo la pagina sportiva lo facciamo parlando dell'Under 21 di Di Biagio con i nostri azzurrini che diciamo così sono un po' in bilico devono oggi battere il Belgio ma potrebbe anche non bastare pertanto gli occhi sono puntati anche sulla partita della Spagna contro la Polonia la Spagna deve vincere ma non troppo nel servizio capirete meglio è una notte da cuori forti perché la qualificazione degli azzurrini è appesa a un bel po' di condizioni la prima è battere il Belgio l'avversario di stasera peraltro già eliminato seconda sperare che la Spagna nell'altro incontro del girone batta la Polonia la terza condizione è un corollario della seconda sperare che la Spagna batta la Polonia segnando non più di due reti perché con tre o più gol di scarto vincerebbe il girone solo così l'Italia otterrebbe la qualificazione alla semifinale dell'europeo e il pass per le Olimpiadi di Tokyo dell'anno prossimo in realtà ci sarebbe un'altra possibilità passare come migliore seconda ma è bene non farci troppo affidamento dopo i risultati di ieri sera infatti a Francia e Romania per passare entrambe basterà pareggiare nello scontro diretto di lunedì sera mancano più di 48 ore ma l'odore di biscotto già c'è l'obiettivo è vincere la partita vediamo poi quello che succede possiamo fare due cose insieme che sia una notte fondamentale per Gigi Di Biagio anche questo è facile da prevedere il suo bilancio alla guida dell'Under 21 nelle tre fasi finale di un europeo è altalenante in bilico sempre tra falimento e gloria in nove partite ne ha vinte quattro e perse altrettante l'urlo della gioia strozzato dalla successiva delusione è successo anche in questo europeo alla vittoria rimonta contro la Spagna e seguita la sconfitta con la Polonia ricca solo di organizzazione e orgoglio una sconfitta dovuta soprattutto alla mancanza di un'idea di gioco riconoscibile in più stavolta c'è l'aggravante di avere a disposizione una squadra piena di talento io ci metterei la firma a giocare come abbiamo giocato l'ultima volta perché è una squadra che conclude per ben 30 35 volte con poca precisione perché è quello che dobbiamo migliorare la precisione negli ultimi 30 metri e allora non è un caso che stasera contro il Belgio Di Biagio sia intenzionato a riproporre la stessa mediana Mandragora Varella Pellegrini e lo stesso attacco Ken Cutrone Chiesa sin qui l'unico davvero convincente della squadra che nel secondo tempo è andata a sbattere contro il muro della Polonia e questo significa che se andrà bene sarà la sua vittoria se andrà invece male sarà soprattutto la sua sconfitta e poi c'è il calciomercato fatto in questa fase di tante voci di pochi fatti ancora ma il cuore della settimana è stato sicuramente la presentazione di Maurizio Sarri nuovo allenatore della Juventus successore di Massimiliano Allegri e allora Sarri ha già fatto capire da chi soprattutto vuole ripartire in attesa dei nuovi arrivi su tutti c'è logicamente Cristiano Ronaldo e allora per Cristiano Ronaldo si può anche fare qualche chilometro e andare a trovarlo a destinazione Finalmente il primo incontro tra Cristiano Ronaldo e il nuovo tecnico della Juventus Maurizio Sarri c'è stato i due insieme a Fabio Paratici si sono incontrati in Costa Azzurra e la missione è servita anche per compiere nuovi passi verso l'ingaggio del centrale olandese dell'Igt corteggiato anche da Paris Saint-Germain e Barcellona passi in avanti nelle ultime ore anche per Rabiot e Marchignos con all'orizzonte il grande sogno del ritorno di Paul Pogba in uscita invece Mandzukic che dire è Matuidi tra i fedelissimi dell'ex Massimiliano Allegri Conte invece punta sui giovani italiani per riequilibrare la sua Inter resta viva la pista a Barella anche se il giovane azzurro costa molto il Caglia richiede 50 milioni l'Inter arriverebbe invece a 36 più 4 di bonus sempre per il centrocampo è forte l'interesse per Stefano Sensi del Sassuolo sarebbe stato raggiunto un accordo per il prestito a 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 25 ma la trattativa non è chiusa i tempi rapidi saranno determinanti per battere la concorrenza del Milan che intanto ha dato il benvenuto ufficiale a Ricky Massara quale nuovo direttore sportivo Boban e Maldini sembrano aver messo gli occhi sul viola veretù che interessa anche la Roma mentre un'indiscrezione proveniente dalla Germania avvicina ai rossoneri Ozan Kabak difensore centrale turco dello Stoccarda che vanta anche quattro presenze in Champions League valigie pronte invece per Patrick Cutrone l'intenzione di Giampaolo ma anche del club è quella di rilanciare André Silva ed eventualmente il romanista Schick compia un tec inamovibile nel reparto offensivo il nodo da sciogliere in casa Roma invece è quello delle partenze dei big con la scadenza di fine giugno che si avvicina e che impone di raggiungere i 50 milioni di cessioni per rispettare i parametri del fair play finanziario intanto ecco le prime immagini del neo-talantino Luis Muriel rinforzo d'attacco per Gasperini il colombiano ritrova il connazionale Zapata e si propone quale valore aggiunto in ottica Champions League e infine il Napoli il presidente dell'Aurentis cercherà nei prossimi giorni di accontentare Carlo Ancelotti in relazione agli ingaggi di James Rodriguez e dell'esterno del PSV Irving Lozano Adesso parliamo della Formula 1 mettendo da parte quel ricorso respinto dalla Ferrari per la penalità a Vettel in Canada Adesso c'è il Gran Premio di Francia tra poco le prove ufficiali le libri hanno detto che ancora una volta la Mercedes è più veloce di tutti Mettersi alle spalle il venerdì nero e cercare di ridipingere di rosso un sabato che deve essere davvero quello della svolta Per la Ferrari la mission del secondo giorno del Gran Premio di Francia non poteva essere più chiara per archiviare quella che è stata una sconfitta definitiva in sede regolamentare e tentare di evitarne un'altra nel luogo che più conta per la Formula 1 ovvero la pista il respingimento del ricorso della Ferrari contro la penalizzazione del Canada costata la vittoria a Vettel è stato l'equivalente di un dritto contro un muro nella forma forse persino più che nella sostanza tra le aspettative create da quelle che la scuderia di Maranello riteneva evidenze nuove e preponderanti e la risposta lapidaria dei commissari apparsi più attenti a spegnere le richieste di minore severità regolamentare avanzate dai piloti che non aggiudicare il caso singolo come ha chiusato il diretto interessato sottolineando insieme alla delusione personale anche quella di tutti gli appassionati non solo ferraristi per uno sport che rischia di perdere il senso stesso della competizione una sconfitta che ieri non era stata allenita nemmeno dalle prime libere nonostante le migliorie aerodinamiche agli alettoni portate dalla Ferrari sul circuito intitolato all'industriale degli alcolici Paul Ricard con le Mercedes di Bottas ed Hamilton ampiamente davanti alle due rosse ma almeno sotto il profilo prestazionale il lavoro notturno degli uomini di Mattia Binotto sembra avere sortito qualche effetto le Mercedes di Bottas ed Hamilton rispettivamente sono risultate ancora le più veloci soprattutto nel quarto settore ma soprattutto Charles Leclerc ha dato segni di qualche progresso con una monoposto meno sottosterzante e dunque meno severa nel consumo delle gomme forse non basterà per scalzare le due bilanciatissime frecce d'argento dalla prima fila ma su un circuito come quello di Le Castellè in cui le Mercedes pagano in termini di velocità di punta potrebbe esserci qualche lampo di luce in fondo a un tunnel che per la Ferrari sembra non finire mai e allora durante il telegiornale vi abbiamo parlato del problema del lavoro della manifestazione dei sindacati che dal Reggio Calabria hanno chiesto tra le altre cose anche al governo di incontrare la piazza e i rappresentanti appunto sindacali ha subito risposto il ministro dell'interno Matteo Salvini nonostante il suo di Castero non si occupi realmente di questioni economiche ma ha detto appunto Salvini entro luglio incontrerò al Viminale riceverò i sindacati al Viminale per un confronto sulla manovra di autunno così Matteo Salvini era l'ultimo aggiornamento grazie per averci seguito anche oggi l'informazione torna alle 20 buon pomeriggio sulla 7